L'incontro con il sindaco, dopo l'incontro del presidente della regione, tanti temi sul tavolo, le vele, scampia. Sì, è stato un incontro importante, proficuo. Napoli è stata la capitale del mezzogiorno, per certi versi lo è ancora. Da qui bisogna partire con dei progetti che diano ai cittadini l'idea e la fiducia che cambiare è possibile. Cominciando a fare anche affrontando nodi delicati come quelli delle periferie, scampia, le vele, io ho assunto un impegno oggi con il sindaco di riprogrammare delle risorse che consentano di finanziare il progetto sulle vele. E questo penso che sia fattibile. Così come dobbiamo dare un nuovo avvio al contratto istituzionale di sviluppo sul centro storico di Napoli. Questo ne ho già parlato con il ministro Franceschini che è d'accordo. Prossima settimana ci vedremo con gli uffici e anche lì partiremo. Infine Bagnoli. Bagnoli è come Napoli si presenterà al mondo nei prossimi anni, nei prossimi decenni. Io spero è un'opportunità straordinaria. Noi abbiamo lanciato questo concorso di idee e io oggi qui ho assunto l'impegno che i primi dieci progetti che arriveranno saranno discussi insieme alle forze vive di questa città. Napoli è troppo importante per essere lasciata soltanto all'amministrazione locale che pure sta facendo tutto il possibile, all'amministrazione regionale. C'è bisogno di un nuovo impegno dello Stato, dello Stato italiano su quella che è una città che ha straordinarie potenzialità. Ha parlato di coinvolgimento del Comune anche sulla programmazione per i fondi europei. Sì, questa è la novità che io vorrei dare al mio ministero, cioè un ministero che discute anche con gli enti locali. In particolare sulla nuova programmazione che, come ci chiede l'Unione Europea, deve avere tra i suoi obiettivi strategici l'agenda urbana. L'agenda urbana ovviamente va discussa con i sindaci e partire dai sindaci delle città metropolitane meridionali che invito a darmi una mano. Ci può dire come è andato l'incontro con il Rettore all'Università? Quali temi sono stati affrontati? Ma con il Rettore all'Università abbiamo discusso di un tema che, come sapete, mi appassiona molto. Cioè quello di come offrire l'opportunità ai giovani che pure se ne sono andati, che hanno la libertà di andarsene, di tornare o ancora quelli che studiano di qui di costruirsi un futuro nel luogo che amano, dove sono nati. E avere anche la capacità di attrarre talenti dall'estero. L'Università deve essere protagonista di una nuova stagione di rinascita del Mezzogiorno. In particolare su un punto che è strategico, che è il trasferimento tecnologico. La Federico II è capofila di progetti importanti, il Competence Center. Devono diventare i nodi di una rete che consente di trasformare il sistema produttivo meridionale inserendo tecnologia, innovazione, offrendo ai giovani quelle occasioni di lavoro buono che sono le uniche che possono trattenere questo straordinario capitale che abbiamo. Scusi, come esponente del Governo è passato il taglio dei parlamentari. Conte ha detto una giornata storica. Guardi, il taglio dei parlamentari è un punto dell'accordo di programma di Governo. Cioè è importante che sia stato compensato, diciamo così, da equilibri che sono stati definiti ieri in un accordo politico e che riguardano anche la legge elettorale che deve assicurare rappresentanza. Vivremo altre giornate storiche quando daremo più soldi in busta paga ai lavoratori, quando ridurremo le disuguaglianze che in questo Paese sono fondamentali, sia quelle sociali che quelle territoriali. Io penso che queste sono le giornate che ci attendono e quelle che ci entusiasmeranno ancora di più. Quelle che mi entusiasmeranno ancora di più. Comincio, senta, in tal senso lei oggi ha parlato sia con il Presidente De Luca che con il Sindaco De Magistris del Piano per il Sud. Puoi inserire a dirci di che cifre parliamo? Che cifre si immagina di poter destinare al Sud in più rispetto a quelle degli anni scorsi? Ma guardate, il dibattito politico meridionale è stato sempre inquinato da queste cifre buttate a caso. Io vorrei che i soldi che sono destinati al mezzogiorno venissero spesi prima che annunciati. Quindi oggi non darò numeri. Dico che l'impegno è accelerare la spesa delle risorse che sono già previste e programmate. Questo è il senso del Piano per il Sud, non promettere nuovi soldi e nuove risorse. Le risorse già ci sono, dobbiamo trovare insieme il modo di spenderle e oggi invece, come ci ha ricordato anche la Commissione Europea, il livello di investimenti è scandalosamente basso e questo è inaccettabile. Questo è l'impegno. Perché non ci sono o perché non vengono spese? Non ho capito. Cioè quello che dice l'Unione Europea lo dice perché le risorse non sono state stanziate negli anni o perché non sono state spese? Entrambe le cose. Le risorse non sono state stanziate perché per esempio non è stata attuata la clausola del 34% degli investimenti ordinari e questo è l'impegno che mi assumo anche con il Piano per il Sud. È una mia battaglia storica che ho condotto anche in altre vesti e dunque adesso che da ministro ho l'occasione per metterla in pratica e proverò a farlo, chiederò a tutto il governo uno sforzo per farlo perché quella è la base per garantire l'addizionalità che ci chiede la Commissione Europea con le risorse europee e le risorse nazionali della coesione per le quali però c'è un deficit di attuazione molto molto grave e il Piano per il Sud deve ovviare proprio a questo coinvolgendo anche gli enti locali perché se sono crollati gli investimenti pubblici nel nostro paese perché sono stati tagliati agli enti locali e invece da lì bisogna ripartire. Grazie.